Immagini bianco e vero che si riportano ad alcune delle pagine più gloriosi della storia del ciclismo. Immagini bianco e vero che si riportano ad alcune delle pagine più gloriosi della storia del ciclo. Ripercorrere l'immensa carriera di Felice Gimondi non è certo facile anche perché il campione di Sedolina è stato uno dei ciclisti più grandi in un periodo storico molto particolare per il nostro paese. Ripercorrere l'immensa carriera di Felice Gimondi nonostante abbia incontrato sul proprio cammino un certo e di Merckx è stato capace di scrivere il proprio nome sull'albo d'oro di un campionato del mondo, di un Tour de France, di tre giri in Italia, di una volta in Spagna, successi ai quali vanno aggiunti anche una Parisione, una di Lano San Reco e due giri di Lombardino.